Amedeo Quadro, direttore sportivo degli Orizzonti Unite, oggi una bella vittoria, condita anche da risultati interessanti dagli altri campi. Direi di sì, giornata positiva, abbiamo fatto una bella vittoria in casa, che direi che ci voleva, anche per attirare di nuovo il pubblico come all'inizio. Poi calcolando i risultati degli altri campi, molto positiva la giornata. Ci siamo avvicinati ulteriormente ai play-off. Senti, un primo tempo dove praticamente la prima azione Lomegna ha raggiunto il pareggio, poi un secondo tempo dove avete praticamente dominato e chiuso la partita. Direi di sì, il primo tempo bene, abbiamo avuto subito due palegol, siamo andati in vantaggio per un loro errore. Abbiamo preso gol sull'unicazione di tutto il primo tempo, poi il secondo tempo la squadra è venuta fuori con me. D'altronde, ultimamente capita, secondo tempo, questa squadra qua è devastante. Sette punti nelle ultime tre partite, domenica arriva al Borgaro, bisogna dare continuità a questi risultati. Assolutamente sì, adesso il gruppo è bello coeso, sta facendo bene, si allenano bene, secondo me è il momento di dare l'accelerata giusta. Senti, i play-off che qualche settimana fa sembravano quasi un miraggio, adesso sono veramente a portata di mano. Ma guarda, io rimango dall'idea che non dobbiamo più fare chiacchiere, pensare domenica per domenica, lavorare bene in settimana e cercare di migliorarsi sempre di più, però è logico, adesso noi puntiamo lì, è giusto che sia così. La squadra, la rosa, secondo me è valida e abbiamo tutte le carte in regola per provare a puntare i play-off. Sul campo state rispondendo coi fatti alle tante parole inutili, a mio parere, che si erano fatte soprattutto a fine novembre? Sì, mi scappa dare il sorrido perché sembra che questa qui sia una società che sempre debba sparire, che sia allo sbando. No, qua ci sono, lo ripeto sempre, persone serie, una società solida e sono tutte chiacchiere da bar, tutte chiacchiere da bar. Anzi, si lavora già per il prossimo anno e bene, per un serio progetto.